Alga e Alquim, l'Alacolota provandolo in vantaggio, superando Matrioska all'esterno di Armenian Force che procede da Rocchio, poi Superfiamma, Magnotocca, che procede da Rocca Forena, l'Alacolota in vantaggio e Armenian Force preme, poi dietro due del Rocchio, Matrioska, Cristalcura e Magnotocca all'esterno che procede da Superfiamma, qua c'è lunghezza, la giuba verde e gialla di Rocca Forena, un bel ventaglione con Magnotocca che muove a mezzo a pista, cercando di vedere su Verrocchio e Armenian Force, l'Alacolota è andata e prova a scappare in cotto, addirittura 5.50, l'Alacolota non ha roccato in cotto in seguito di Armenian Force che ha all'esterno Verrocchio, poi Magnotocca e Cristalcura all'estercato Matrioska, che l'Alacolota prova a metterci a riparo dall'incendimento di Verrocchio, poi Armenian Force con Verrocchio che va sull'Alacolota e lo attacca, Verrocchio che attacca, è il leggero vantaggio Verrocchio che sta completizzando il sorpasso, Verrocchio che passa sull'Alacolota con il Superfiamma e Armenian Force nel virale Verrocchio che se ne va dall'Alacolota e il Superfiamma, 10.49, l'ordine d'arrivo, vittorio di Verrocchio, Antonio Domenico Mighelli puntuale e preciso, senza sbocature, attacca e passa sull'Alacolota che ha perso lo sbalzo migliore, andrà a rivista abbasciando il tiro, terzo Superfiamma, 10.49 dalla postazione centrale, è tutto. 10.49 all'ordine d'arrivo ufficioso con un Verrocchio che ha vinto...